L'8 e 9 il 10 maggio Pavia sarà impegnata nella festa dell'educazione, una rassegna di incontri portati avanti dall'assessorato di istruzione politica e giovanili e dal tavolo permanente prevenzione e dipendenze. Incontri, convegni, dibattiti e attività pratiche per i ragazzi che si chiuderanno appunto il 10 maggio con un grande corteo contro ogni forma di dipendenza in favore della prevenzione. È appena finita la conferenza stampa per la presentazione della festa dell'educazione, siamo in compagnia dell'assessore di istruzione politica e giovanili Rodolfo Faldini. Una semplice domanda, perché la festa dell'educazione? Qual era il bisogno? Beh, quando si fa festa si vuole un po' andare a celebrare anche qualcosa. Noi avevamo due decennali da celebrare, Scienze e Arte Under 18 e anche Scuola in Scena al Teatro Fraschini ed in più dovevamo celebrare un anno di impegno nei confronti dell'educazione, nei confronti di progetti educativi. È comunque un cammino, un percorso che dura dal 2009 e che era giusto così andare a esaltare attraverso una festa. In questa festa che si terrà l'8, 9 e 10 di maggio avremo modo così di concentrarci su temi che noi riteniamo debbano essere così approfonditi. Parleremo di internet, parleremo di alimentazione e parleremo anche di illusione, di realtà, di pseudoscienza e di scienza e anche della necessità di non fermarsi esclusivamente alla superficie ma bensì grazie così a un processo di arricchimento, di acculturalmento e di approfondimento andare ad appropriarsi di un qualcosa che è giusto e necessario sempre più conquistarsi. Lei infatti prima in conferenza stampa ha parlato di una torta ricca di eventi però ha parlato anche di una ciliegina. Di cosa si tratta? Beh la ciliegina giustamente durante i festigiamente la si mette sopra questa torta che è rappresentato da quattro anni di lavoro e dall'ultimo che andiamo così celebrando con la prima festa dell'educazione e comunque con una marcia, con un cammino per l'educazione a favore della prevenzione e contro ogni dipendenza che partirà proprio venerdì 10 maggio alle 14.30 da Piazza della Vittoria e si concluderà mentre si conclude Scienza e Arte Under 18 al Castello Visconteo. Quindi vedremo giocolieri che inizieranno, saranno alla testa di questo corteo, vi saranno cartelli che innegeranno comunque alla necessità di educare, di prevenire e che saranno contro ogni tipo di dipendenza e noi cerchiamo così di sensibilizzare non solo gli addetti ai lavori scolastici, alunni e professori ma soprattutto i genitori, quindi appuntamento alle 14.30 in Piazza Vittoria venerdì 10 maggio. Siamo con la professoressa Teresa Antonioli dell'Itis Cardano, coordinatrice e organizzatrice della decima rassegna di Scienza ed Arte Under 18. Vogliamo spiegare al nostro pubblico come si svolgeranno le giornate dall'8 al 10. Cominceremo mercoledì 8 maggio alle 9 con l'inaugurazione della manifestazione e seguiranno la presentazione degli exhibit realizzati dai ragazzi al Castello Visconteo. Associato a questo ci sposteremo mercoledì alle 10.30 al Teatro Volta per una conferenza spettacolo su scienze paranormale realizzata dal professor Garlaschelli dell'Università di Pavia. Nel pomeriggio seguiranno, mentre continuano le presentazioni degli exhibit in Castello, seguirà una conferenza dell'Associazione Astrofili di Vigevano alla Santa Maria in Gualtieri alle ore 15, la mitologia nelle costellazioni. Il giorno 9 maggio invece sarà dedicato esclusivamente agli spettacoli di illusionismo. Sarà il Mago Fax a illustrare alle varie fasce d'età, in quattro rappresentazioni al Teatro Volta, Illusioni e Magie per i ragazzi. Il giorno venerdì 10 alle ore 11 in Castello invece il direttore dell'Osservatorio di Cadelmonte presenterà Nicola Tesla, la scienza e l'astronomia. E alla fine, il venerdì pomeriggio, ci sarà la conclusione di Scienza Ander 18 assieme alla festa dell'educazione nel corteo che arriverà al Castello Visconteo.